Raffaele Lombardo, primo della lista al Senato con il Movimento per le Autonomie, esclusi i senatori Crisafulli e Papania nel Partito Democratico. Raffaele Lombardo è capolista del Movimento per le Autonomie al Senato in Sicilia. Lo ha convinto Berlusconi e lui dopo non essere stato convinto, si è convinto. Sì, mi ha richiamato Berlusconi, lui torna in campo e ha voluto che tornassi anche io. Meglio allora essere in prima linea anziché solo tifoso. Adesso il Movimento per le Autonomie e Grande Sud di Gianfranco Miciche. Forse saranno lista unica al Senato dove si gioca la partita dei voti per la conquista del premio di maggioranza a Palazzo Madama. Altrimenti Grande Sud sarà in corsa con una sua lista e il primo sarà Roberto Centaro. Il capolista al Senato del Popolo della Libertà è Renato Schifani. Il Movimento per le Autonomie e Grande Sud hanno ipotecato il settimo e l'ottavo posto. Forse Rudy Maira sarà quinto. Al secondo posto Simona Vicari. Il terzo se lo giocherebbero Domenico Nania e Pino Firrarello. Nel frattempo sentenza shock del Comitato dei Garanti del Partito Democratico. Fuori in Sicilia due vincitori alle primarie. I senatori Vladimiro Crisafulli di Enna e Nino Papania di Trapani. Perché il Comitato risponde? Criterio della opportunità. Abbiamo tutelato l'immagine e l'onorabilità delle PD. Crisafulli controbatte. E il giacobinismo allo Stato puro. Un errore clamoroso. Spero che il mio partito non continui su questa strada. Quando si sceglie la via della purezza c'è sempre uno più puro che ti è pura. Adesso come lo spiegherò ai 6.600 che mi hanno votato alle primarie. È stata una scorrettezza. Se volevano arrivare a questo potevano dirmelo anche prima. La mia candidatura non contrasta con nessun articolo di legge o del codice etico del partito. È stata invece posta una questione di opportunità. Crisafulli è stato rinviato a giudizio per concorso in abuso d'ufficio. Ed è stata archiviata l'ipotesi del concorso in associazione mafiosa. Sollevata dopo essere stato intercettato a parlare con un avvocato di Enna. Poi condannato come boss mafioso. Antonio Papania invece ha fatteggiato due mesi di condanna per abuso d'ufficio. Però 11 anni addietro. Il caso Crisafulli è stato denunciato con una martellante campagna mediatica. Anche oltre lo stretto di Messina dall'agrigentino Giuseppe Arnone. Ed è stato poi rilanciato altrettanto a tamburo battente da Il Fatto Quotidiano di Padellaro e Travaglio. E Arnone commenta. Crisafulli e Papania sono i massimi capi delle due correnti di maggioranza delle PD in Sicilia. An esso si apre una fase nuova per togliere il tappo a una gestione ampiamente al di sotto dei valori etici e morali oltre che politici del Partito Democratico. E' con ogni evidenza che si apre una nuova fase. Perché non dobbiamo dimenticare che la Commissione di Garanzia ha messo fuori, accogliendo i miei esposti, quelli scritti da me, Crisafulli e Papania, ma ha anche dovuto valutare Genovese e Capodicasa. E anche su Genovese e Capodicasa oggi Bersani è perfettamente a conoscenza di qual è il quadro che riguarda questo partito politico. Stiamo azzerando quella parte del PD che si muove con logiche assolutamente inaccettabili. Abbiamo avuto la campagna di stampa del Fatto Quotidiano che ha riportato i rapporti dei Carabinieri che ricostruivano le vicende scandalose. Poi proprio ieri mattina il colpo finale l'ho dato io con l'ultimo mio esposto dove chiedevo a Bersani e a Berlinguer Carissimi fate una cosa semplice, chiamatevi Crisafulli, gli leggete la frase che lui Crisafulli ha pronunziato col capo mafia, questa frase se quell'impresa vuole quell'appalto deve battere un colpo e batterlo forte e poi gli dite Crisafulli se ci spieghi cosa volevi dire quando parlavi col capo mafia pronunziando queste parole sei candidato se non sei in grado di spiegarlo non sei candidato. Io sarò lunedì a Piacenza, ne parleremo dopo, a fare affiggere il manifesto di ringraziamento a Bersani. Bersani ha fatto una grande cosa per la Sicilia, ha restituito il Partito Democratico alla memoria di Piola Torre.